Qual è l'importanza della collaborazione con la Repubblica di San Marino? Innanzitutto è un piacere per me aver ricevuto qui oggi il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino che essendo uno Stato autonomo ovviamente ha una sua organizzazione, ha un suo governo, ha una sua protezione civile però come ogni territorio, prendiamo i territori della nostra regione, anche noi abbiamo tutta una serie di realtà sui territori che però al momento del bisogno collaborano tra loro, così come collaboriamo tra noi anche tra regioni diverse della nostra nazione in questo caso essendo una nazione autonoma che confina ed è inglobata all'interno del territorio tra la regione Emilia Romagna e la regione Marche è giusto che ci sia comunque una collaborazione tra le nostre attività perché un nevone piuttosto che un'altra calamità naturale se comprende un territorio lo comprende nella sua interezza e non possiamo guardare i confini siccome i confini a volte territoriali potrebbero porre alcuni vincoli, alcune difficoltà di approccio o di intervento nell'immediatezza, un protocollo d'intesa come quello che abbiamo fissato e siglato oggi che significa collaborazione tra le nostre protezioni civile, scambio di dati e di informazioni tra le nostre protezioni civili ma anche unità di intenti qualora uno dei due territori o entrambi i territori insieme potessero essere diciamo così compresi all'interno di una difficoltà, di una difficoltà di qualche evento atmosferico eccezionale sperando che non capiti mai ovviamente però l'importante è che ci sia un'attività congiunte che facciano di queste esperienze di protezione civile seppur di stati diversi, seppur di realtà diverse, un'unica organizzazione perché nel momento poi dell'esigenza occorre che ci sia un'unica grande organizzazione quindi ho apprezzato molto questa disponibilità e questa visita anche nella nostra Regione da parte dei responsabili della Repubblica di San Marino cosa che cercheremo di ricambiare al più presto anche come Regione Marche